Chi si aspettava una tradizionale serata di danza contemporanea sarà rimasto stupito. Chi invece aveva sbirciato qualche video sul web di Evolution Dance Theatre avrà trovato conferma delle aspettative. Ieri a Palazzo Trecchi, nell'ambito della rassegna Acquedotte, è andato in scena uno spettacolo costellato di suggestioni create con la luce che hanno reso invisibile il confine fra sogno e realtà. Erano otto gli artisti della compagnia con il coreografo Anthony Ayl, eppure sembravano sdoppiarsi fino a fondersi con la scena grazie alla tecnica del light wall. I ballerini hanno volteggiato sul palco e si sono lanciati in performance aeree, ora con illusioni ottiche, ora con ombre cromatiche, in sincronismo perfetto fra loro e con la musica. Il pubblico si è fatto avvolgere dal buio in cortile, accompagnato fra l'altro da qualche stella cadente, per apprezzare il telo nero davanti al palco che si è trasformato in un murale scritto con la luce. Si sente l'imprinting dei Momix, storica compagnia fondata nel 1980 da Moses Pendleton, nella quale il coreografo di Evolution Dance Theatre ha danzato per ben sei anni. Ma quando Anthony Ayl ha creato la propria compagnia, ha saputo darle un tratto distintivo caratterizzato dall'ironia, inserendo qualche sketch comico fra le scene dello show. In esclusiva per Cremona poi, la compagnia ha presentato una coreografia originale ispirata al tema dell'acqua, omaggio al festival Acquedotte. La produzione Black and Light and Water sembra proprio aver stregato il pubblico del Trecchi.